ragazzi mi avete chiesto un'idea veloce e con poche calorie insomma un pezzo di scottona molto molto magra e l'andiamo realmente solo a scottare su una piastra un minuto per lato quindi proprio molto rosa e poi condiamo con del sale rosa e un po di pepe e poi ho preparato un po di verdure grigliate zucchine e melanzane vado a cuocere la carne la piastra abbastanza bollente mettiamo due pezzettini di carne vedete che bel colore e facciamo fare un minuto per lato stare anche dal lato più stretto eccola qua proprio due minuti l'abbiamo scottata adesso le prendiamo andiamo a condividere con il sale rosa la nostra fattana grazie voglio evo giura ed ecco qua la nostra scottona con l'orto di verdure grigliate grazie 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 grazie